Siamo nell'azienda agricola Nigro, l'azienda è situata in Basilicata, sulla costa Eonica, nel Metafondino, abbraccia diversi comuni e si sviluppa principalmente sulla frutticoltura. Produciamo agrumi dal precoce al tardivo e produciamo trupace dal precoce al tardivo, con un lungo calendario, sulle pesche, le albicocche, le susine e le pere. L'azienda è di terza generazione, inizio intorno agli anni 50 e con il passare del tempo e degli anni è successo mio padre e poi noi, iniziando a guardare il settore agricolo con uno più diverso, soprattutto per quanto riguarda le varietà innovative e che sono competitivi sui mercati e che possono rispondere alle esigenze dei clienti. La nostra azienda oggi ha puntato su diverse varietà nuove delle albicocche. In particolar modo, negli anni abbiamo fidelizzato un rapporto lavorativo con PSB dove abbiamo puntato molto su alcune varietà come la Milord, la Nelson, la Mabrigal e le novità che arriveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che sono ancora varietà siglate. Noi crediamo molto in queste varietà perché su quello che si evince nei cambi, nella lavorazione, nel magazzino, rispondono molto bene per la raccolta, per la conservazione, per la lavorazione e soprattutto per i trasporti fino alla destinazione. Sono elementi importanti che collegano le esigenze del cliente con le scelte aziendali che permettono di avere un successo anche a livello economico e strategico per le aziende.